Perché qua c'è l'acqua di pecore che scappano. Spostati in su. Già prima non è gravida. È bella la prima, è giovane. Magari già è stato messo il dottor Guardia. Vai Erika, vai. Poca vacca, questo funziona. Non si vede che c'è. Voglio accendere. Qual è la triccone? Oltre alla pratica fisica la triccone non si prende a guardare come fa a girare. Che bellini, piccolini. Hai visto? Sì. Ce n'è uno che ha la faccina così un po' ne ha detto. È un piccolo? Sì. Che bellissimo. È il maschietto. Peccino. Ho appena chiamato lui a fare un piccolo uomo. Sì. Sì. Ma hai dormito? Sì. 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 Devo dire che Havana è parecchio disponibile. Sì. Sì. Sì, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so, non so. Sì, non so, non so, non so, non so, non so. Sì, non so. Sì, non so. Sì, non so.